Dicevo, finalmente fanno giocare a pallone Mino, niente, in panchina. No, no, io mostro in panchina, sto dicendo, mi sei giocare a pallone. Come stai? Tutto a posto, tutto a posto, Mino, Mino. Sono contenti di essere qui. La finalità è importante, no? Per questa bellissima causa, quindi ci siamo, noi prestiamo sempre la nostra immagine per quello che possiamo. Se siamo importanti per qualcuno, a noi fa molto molto piacere. Ci sono in tribuna tanti bambini, tanti ragazzi e questo è il bello di questi momenti, no? Ma sì, bisogna sempre iniziare da loro perché loro poi saranno istruiti su quello che bisogna fare in futuro. Quindi siamo molto molto felici di renderli felici. Mino, tra l'altro oggi la finalità, come dicevo, è molto importante perché stiamo parlando di lavoro, di sicurezza sul lavoro e la sicurezza nel lavoro è importante in qualsiasi campo. È importante ed è importante sostenere poi anche le famiglie che sono vittime di morti bianche. Che comunque, ecco, sul lavoro ci sono tanti casi ancora purtroppo. Invece conoscere una normativa, fare tanta attenzione significa anche evitare incidenti. Evitare gli incidenti è importante, assolutamente fondamentale. Mino, cambiamo registro, passiamo al Napoli. In Napoli? Bisogna evitare gli incidenti. E il Napoli gli incidenti quest'anno ne ha fatti un po'. Ci stiamo un po' riposando, stiamo preparando la squadra per l'anno prossimo. Ah, ci stiamo proprio riposando? Certo, perché non hanno avvisato. No, no, noi pensavamo che la stagione fosse una cosa. Ogni tanto, vai, che è la cosa bellina. È importante non ogni 33 anni però. No, 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 l'anno prossimo già. No, stiamo rotando, stiamo cercando di trovare il mister per l'anno prossimo. Ah, quindi stiamo testando gli allenatori. Abbiamo cambiati già tre, mi sa che cambiamo... E sei anche tu tra i candidati. Io? Sì, vado ad allenare il Napoli. Allora siamo a posto, così retrocediamo sicuramente. Mino, Victor Rosimane invece l'anno prossimo pure lui l'abbiamo testato, poi lo vendiamo. Io lo amo, quindi speriamo che resti qua a Napoli. Tanto è cominciata la partita senza di te. Eh, vabbè, io poi sono il secondo tempo l'asso nel mare. Dicevamo di Victor Rosimane. Eh, per me, ti ripeto, resta un grandissimo giocatore. Non so adesso se ha firmato, se ne è andato. No, no, ovviamente ancora no, però c'è una clausola. Questa fine si desidera, quindi fino all'ultimo non ti dirò mai. 130 milioni di euro. Quello che abbiamo preso oggi qua per venire a fare... Quello, sì. ...di benefici. Si dice mettili a terra e vedi se camminano. No, no, io spero che resti perché è veramente un giocatore fondamentale, importante e lui a Napoli ha dato tanto, quindi spero che riesca a dare ancora tanto. Speriamo che resti ovviamente a dare tanto Victor Rosimane che il Napoli possa riprendersi, ma l'ultima, nelle ultime giornate, Champions, Europa League, Conference League, qualcuno dice durante le nostre live, meglio andare in Conference così la vinciamo. Ma io penso che il Napoli deve... Cioè non ci sta oggi la possibilità di scegliere gli obiettivi. Secondo me bisogna giocare sempre bene perché non è la squadra che dice sta andando fortissima e quindi dobbiamo concentrarci solo sul campionato, sulla Ciudad Champions. Purtroppo il Napoli oggi sta zoppicando, quindi bisogna concentrarsi su tutti i trofei. Mino, forza Napoli. Forza Napoli sempre. Ciao, grazie, grazie a Mino Abacuccio mentre la partita è cominciata.